Ecco io allora su queste parole devo dire generose di Giovanni volevo ricordare che da poche settimane Amilcare manda via email attraverso la collaborazione della radio una newsletter in cui tutti i segretari possono trovare le tracce più importanti trasmesse nella settimana precedente che quindi possono a loro volta trasmetterle agli iscritti proprio per fare quello che diceva Giovanni poco fa cioè ampliare l'ascolto della radio portarla fino ai semplici iscritti e magari che ne so attraverso il web può arrivare anche a chi non è iscritto a tutti gli altri edicolanti Allora grazie Giovanni di questa testimonianza noi ti auguriamo buon lavoro e un arrivederci al prossimo appuntamento Grazie a voi grazie grazie mille un saluto a tutti grazie